Sabato 12 e domenica 13 gennaio si è tenuta la festa di Santa Antonia Abate, la quale ha visto come protagonisti i giovani coltivatori. Domenica 13 hanno preso parte all'appuntamento un centinaio di trattori. L'atmosfera è stata animata dalla presenza di parecchie famiglie, con bambini e dagli animali. Il sindaco Luca Baracco ha ringraziato gli agricoltori che portano avanti un lavoro di salvaguardia del territorio. Porto volentieri il mio saluto in occasione della festa di Santa Antonia Abate in questo 2019. Desidero ringraziare di cuore il gruppo dei giovani agricoltori di Caselle che hanno organizzato questi due giorni di appuntamenti, iniziata già sabato sera con un momento di divertimento, di ballo con la discoteca presso la bocciofila di Caselle e poi questa mattina con la tradizionale festa, il raduno dei trattori, la benedizione dei mezzi e degli animali. Il territorio di Caselle è ancora profondamente radicato alla sua realtà agricola e per cui va un ringraziamento a tutti questi ragazzi che quotidianamente portano avanti un impegno di salvaguardia del territorio e di promozione della nostra cittadina. Per cui un buon Sant'Antonio a tutti. Assessore all'agricoltura non posso che essere orgoglioso delle due giorni di ieri con la festa dei giovani agricoltori e della giornata di oggi con la sfilata dei trattori, la benedizione dei mezzi stessi e di tutti gli animali. Si è proseguito oggi in questa bella cornice offerta dalla sala degli alpini con questo pranzo che ha visto più di 250 presenze. Quindi questo è segnale di una comunità che si abbraccia intorno al mondo dell'agricoltura che è sempre parte più integrante e motore per tutte le attività che si svolgono sul nostro territorio. Festa di Sant'Antonio 2019 a Caselle Torinese. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il presidente dei coltivatori di Caselle Paolo Detti al quale chiedo un saluto e anche così una visione di quale può essere il futuro e le prospettive dell'agricoltura sul nostro territorio. Io credo che quello che ho detto e ne sono fermamente convinto ai giovani oggi è che loro sono davvero il futuro. Noi siamo in un periodo di grande difficoltà per l'agricoltura. Caselle, come ho avuto modo di dire in passato, era una delle perle dell'allevamento dei bestiame, era una delle perle dell'allevamento del bestiame da latte. Questo settore è in questo momento in grande difficoltà. Io credo che lo spirito dimostrato dai giovani casellesi e dai loro amici, perché non sono solo casellesi quelli che sono presenti qui oggi, sia lo spirito giusto per superare questi momenti di crisi. Cioè fare delle sinergie, fare delle alleanze, fare delle cose insieme può essere l'unica soluzione per superare questi momenti, creare delle possibilità nuove per questa nostra, diciamo così, attività. Un'attività che in tutti questi anni ha fornito e ha saputo adeguarsi ai tempi, ha saputo migliorare la capacità di produrre, di produrre bene, di produrre con eccellenze e tutto questo non va perduto. Quindi questo spirito che oggi abbiamo trovato a Caselle deve essere usato per continuare questo che noi abbiamo costruito in tanti anni. In occasione della festa di Sant'Antonio 2019 a Caselle abbiamo il piacere di ospitare il responsabile di zona della Col di Rette, Mario Barbero, al quale desidero chiedere un pensiero, un saluto in occasione di questa bella festa che ha coinvolto più di 200 persone in questa giornata. Un ringraziamento all'amministrazione che come sempre non solo partecipa ma è un valido supporto a questo importante appuntamento in campo agricolo ma anche in campo istituzionale. Col di Rette ovviamente ben felice di partecipare ed è con la sua rappresentanza del gruppo giovani uno dei perni di questo tradizionale appuntamento molto sentito e molto partecipato. Secondo me è una fortuna avere un gruppo di persone così coese e così legate al territorio che portano avanti una tradizione importante non soltanto in quanto tale ma come un momento di aggregazione e di condivisione di ideali e di modi di vivere che sono quelli che hanno permesso a questo comune di mantenere una tradizione agricola importante nel tempo nonostante quelle che erano le circostanze industriali che hanno attorniato l'attività agricola. Quindi Caselle in questo momento ha una sua valida funzione agricola, una sua importante funzione agricola che in circostanze come questa viene rappresentata nel modo migliore possibile perché divertendosi la gente esprime tutte le sue potenzialità. Quindi ringrazio l'amministrazione che è presente, ringrazio soprattutto chi si assume l'onere di organizzarlo e ringrazio Col di Rette che dà la disponibilità a mantenere e dare una mano a realizzare questi eventi.